Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Sul palco scintillante di Io Canto Generation si è consumato un momento di suspense elettrizzante, culminando nella proclamazione della vincitrice, Marta Viola. La giovane e talentuosa artista di 14 anni, originaria di Chieri, vicino Torino, ha lasciato il pubblico e la giuria senza parole. La sua presenza scenica non è nuova nel panorama televisivo, avendo già calcato palchi sia Rai che Mediaset. Marta ha incantato tutti con la sua performance, interpretando con maestria classici senza tempo come My Heart Will Go On di Celine Dion e di Sole e Azzurro di Giorgia. La sua brillante esibizione l'ha portata a superare i concorrenti nella superfinale, battendo Sofia Leto e Daniele Mattia Inzucchi, che si sono classificati rispettivamente al secondo e terzo posto. Il talento di Marta non è una novità. Già nel 2019, la sua famiglia, riconoscendo la sua straordinaria voce, l'aveva iscritta allo Zecchino d'Oro. La musica è una costante nella vita di Marta, con madre e sorella che condividono la stessa passione e partecipano a eventi locali. Marta ha portato il suo talento ben oltre i confini nazionali, rappresentando l'Italia al Junior Eurovision Song Contest 2019 a Gliwice, in Polonia, dove si è classificata al settimo posto su 18 partecipanti. La sua vittoria a Io Canto Generation le ha aperto le porte a un'esperienza formativa presso la New York Film Academy a Firenze e un viaggio a New York per esplorare Broadway. Inoltre, avrà l'opportunità di registrare una cover, grazie a R101. La sua ascesa nel mondo della musica sembra appena iniziata, e il futuro promette ulteriori sorprese e successi. E tu cosa ne pensi di questa bella storia? Scrivilo nei commenti e non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.